Anna, che bello conoscerti finalmente. Non esagerare, ma... Ah, ma smettila, Jay. Abbiamo deciso per l'agnello. Ho chiesto a Jay se mangi carne, ma non risponde mai ai miei messaggi. Grazie, mamma. Adoro l'agnello. Oh, bene. Dov'è mio marito? È troppo brusco per salutare. Cosa fai lì nascosto? Scendi a salutare. Ha avuto una settimana impegnativa. Anna, lui e William. Salve, William. Ciao, Anna. Puoi offrirle qualcosa da bere? Jay, vieni con me. Aiutami ad apparecchiare. Tutto bene? Sì, certo. Cosa preferisci bere? Tu cosa vuoi farmi bere? Tu cosa vuoi farmi bere? Tu cosa vuoi farmi bere?